Oggi sparring, però posso dire una cosa, io non mi alleno da una settimana Lui si è allenato tutta la settimana, ho visto che avete fatto tutte Che cazzo vuol dire? Allora intanto volevo ringraziare il mio amico di sparring Roberto Che mi ha dato un pugnone sul naso E adesso mi fa male la schiena e non riesco più a piegarmi per allacciarmi le scarpe È brutto invecchiare ragazzi Nonostante le recenti disavventure, tra cui un intervento all'addome e la separazione da Chiara Ferragni Fedez non ha perso la determinazione nell'allenarsi Recentemente avvistato in palestra, si è impegnato nel box con coetanei E persino con individui più giovani, dimostrando una forma fisica invidiabile Fedez, pur avendo rischiato sul ring, attribuisce la sua performance all'età rispetto ai suoi avversari più giovani Ma ammette che potrebbe essere semplicemente una questione di pratica e abilità La sua umiltà nel riconoscere il talento del suo avversario suggerisce un atteggiamento sportivo e rispettoso Mentre la sua dedizione all'allenamento continua a essere un esempio di determinazione nonostante le avversità